Nella sfida della riduzione delle emissioni inquinanti, i trattori del futuro potrebbero andare a girasole. L'agricoltura toscana partecipa recuperando oltre 350 ettari di terreni agricoli abbandonati o degradati e destinandoli alla coltivazione di girasoli energetici, da trasformare cioè dopo la spremitura dei semi in biodiesel. Col diretti e consorsi agrari d'Italia, attraverso i contratti di filiera che assicurano alle imprese agricole un prezzo molto più vantaggioso e remunerativo per ogni quintale ritirato, hanno raggiunto un accordo di collaborazione tra Eni e BF Bonifiche Ferraresi per contribuire a sviluppare nuove filiere per uso energetico in Italia. Il progetto punta inoltre a creare un nuovo modello di business che da un lato garantisca l'accesso alla terra agli agricoltori creando opportunità economiche e dall'altro introduca tecniche e processi all'avanguardia. Questa novità è particolarmente adatta a quest'anno in cui la raccolta del girasole sta andando molto bene grazie alle piogge di maggio e giugno. In Toscana il girasole occupa oltre 20.000 ettari di terreni agricoli, soprattutto nelle province di Arezzo, Pisa e Grosseto.